L'onorevole Giorgio Assenza a testa bassa contro l'opposizione che ha bocciato l'articolo del disegno di legge per la difesa delle famiglie a basso reddito e dei pignorati. Autocensurando per usare parole come dire leggeri, dice Assenza, mi fa specie l'accanimento dell'opposizione contro il social housing, cioè contro la difesa delle famiglie a reddito a basso. E' stato infatti rigettato dall'Aula a Lars l'articolo 8 di questo DDL di stabilità che prevedeva agevolazione all'acquisto e alla risturazione della prima casa, proprio dai deputati regionali di quelle forze politiche che sono la gran cassa del populismo e della difesa degli ultimi. E così Giorgio Assenza indignato, il quale sottolinea come peraltro la legge per la riqualificazione urbanistica e una norma nazionale, dunque grazie ad essa era anche certa la copertura economica. Molto arrabbiato dunque Assenza che parla e dice che non esista nemmeno larvi della mancanza di irreperibilità dei fondi per l'edilizia residenziale e sociale. Il deputato aveva anche presentato un amendamento per aiutare i cosiddetti esecutati, cioè quanti rischiano per vari debiti di avere pignolato la prima, anzi l'unica casa. E alcuni dei miei colleghi consiglieri regionali, conclude Assenza, che hanno bocciato l'articolo, ne dovranno adesso rendere conto non a me ma ai propri elettori traditi.